L'avvertenza SAIT, l'assemblea dei lavoratori, oggi ha deciso lo sciopero per protestare contro i 130 esuberi annunciati. Intanto il presidente della cooperazione, Fezzi, ha incontrato i sindacati. Auspichiamo, ha detto Fezzi, che si trovi una soluzione condivisa. Il servizio è di Massimiliano Chiavarone. Due le iniziative di lotta messe in campo. La prima è lo sciopero di venerdì prossimo, 18 novembre, quando i lavoratori del SAIT manifesteranno davanti alla sede della federazione di via Segantini e chiederanno la presenza dei vertici della cooperazione Trentina. Altra giornata, la cui date ancora da fissare, quando i lavoratori SAIT chiederanno un incontro con i capigruppo del Consiglio Provinciale. Queste le decisioni dell'assemblea di questa mattina in via Innsbruck. Assemblea blindata, perché non c'è stato permesso di entrare con la telecamera. La situazione è quella dei 130 esuberi annunciati dal SAIT, il Consorzio di Secondo Livello delle Famiglie Cooperative, che deve comunque chiarire molte cose. L'azienda non ha dato nessun dato, nessun obiettivo, se non quello di migliorare la produttività e la competitività. Noi abbiamo fatto un primo incontro sindacale, avremo un incontro ufficiale la settimana prossima, nel momento in cui riceveremo la comunicazione ufficiale degli esuberi. Il Consorzio non ha neanche comunicato quali sono i criteri per individuare dove tagliare posti di lavoro. Resta lo shock per una notizia che mette in crisi lo spirito della cooperazione. Si parlava in questi anni di un esubero possibile attorno ai 30, 40, 50 persone, ma che potessero essere reinserite attraverso dei percorsi condivisi. Così non è stato.